E' una bellissima isola, abbiamo passato qui al Coralli 15 giorni stupendi, la spiaggia qui vicino di Micrivigla è bellissima soprattutto per le famiglie con i bambini, quando c'è tantissimo vento è riparata, si sta benissimo, i colori sembrano quelli di una spiaggia tropicale, ci sono tante pietre, tante rocce, tanti bellissimi pesci e poi per vedere tutta l'isola bene è una bella cosa per aspettare una macchina, analizzare e fare il giro di tutte le spiagge, ci sono tante spiagge su tutta la costa est dell'isola che sono abbastanza riparate dal vento, bellissime per i bambini e poi la città è fantastica, le vieze della città, i negozi, i ristoranti, si mangia molto bene, io ho già visto tante isole della Grecia, questa però è una delle sicura forse è la più bella soprattutto per quanto riguarda il mare e basta, speriamo di tornare ancora, ci siamo trovati molto bene e grazie Mario per l'ospitalità.